ecco solo un piccolo controllo che dovete fare che ho visto che può avere un certo effetto andate quando giocate su impostazioni vedete che si è detto tutto in italiano ma accertatevi nelle impostazioni avanzate che la lingua sia effettivamente IT perché ho visto che se non è impostato la lingua a IT potrebbe non funzionare ok quindi detto questo torniamo local game test tutorial e facciamo un play game e vediamo che cosa succede ora vedete che siamo la prima cosa che vediamo è un cartello e in bianco vedete sulla sinistra l'introduzione e ci dice che devo fare il tasto click per leggere sulla destra vedete che ci troviamo all'inizio e sotto abbiamo la nostra hotbar allora facciamo il tasto destro e ci viene effettivamente una serie di istruzioni c'è scritto quali sono i tasti che funzionano quindi W per andare avanti A SD per andare rispettivamente a sinistra indietro insomma tutto quello che c'è troverai dei cartelli in tutto il tutorial il tutorial diciamo noi il tasto azione il tasto azione sarebbe il tasto destro allora per il momento usiamo il tasto destro guardiamo uno di questi cartelli e cliccheremo con la destra bisogna essere abbastanza vicino e bisogna avere il crocino al centro dello schermo direttamente sul cartello se esci dal gioco poi quando ritorni riparti da dove sei quindi dice cammina un po' e leggi gli altri cartelli quindi noi cosa facciamo? ci muoviamo ci sono altri cartelli? sì, il più vicino cartello è quello laggiù quindi andiamo eccolo lì e qui c'è scritto telecamera tasto destro allora ma in testa dice tre modalità di telecamera che determinano come si vede il mondo quindi si può vedere in prima persona in terza persona da dietro in terza persona da davanti per cambiare la modalità premiamo F7 però bisogna chiudere questa finestra c'è anche la modalità cinematica che può essere attivata con F8 come vedete nel mio video io ce l'ho la modalità cinematica ma non si attiva più con F8 perché l'ultima versione l'hanno tolta perché evidentemente disturbava quindi chiudiamo qua e facciamo F7 vedete che mi vedo il mio avatarino con F7 mi vedo davanti F7 torno siamo di nuovo punto a capo allora abbiamo visto quello abbiamo visto quello andiamo a vedere questo main test click destro ok dice main test non è un gioco insieme ma è un motore di gioco per poterlo giocare serve un cosiddetto gioco main test chiamato sub game o anche solo gioco e lo chiamo anche mini game in questo tutorial usiamo il termine sub game in realtà main test viene distribuito con un sub game molto semplice che si chiama main test questo tutorial insegna le basi di main test cioè il motore che sono valide per tutti i sub game tuttavia non va bene per in generale per qualche particolare sub game e ne insegna i sub game sofisticati main test e sub game di default sono in sviluppo costante quindi se cambia qualcosa abbiate pazienza quindi chiudiamo e abbiamo capito quindi questo allora dunque c'erano tre li abbiamo visti tutti e tre andiamo nella stanza successiva allora qui non c'è niente quindi diciamo che dobbiamo solo con w eccetera e andiamo avanti ok qui cosa c'è? niente una finestra delle cose e adesso abbiamo la sezione salti ok sezione salti quindi andiamo saltare uno non si può camminare solo su questo scalino bisogna saltarlo quindi devi saltare un pochino in alto e per saltare bisogna premere lo spazio quindi chiudiamo e vediamo allora se arriviamo non ce la facciamo neanche se prendiamo la rincorsa se però quando arriviamo premiamo la spazio ecco abbiamo fatto il salto perfetto arriviamo qua crepacci allora questo crepaccio è così piccolo che puoi camminarci sopra basta che non ti fermi ma lo puoi saltare per sicurezza vediamo cosa succede se per caso ok dunque se per caso non riuscissimo a saltarlo cosa facciamo caderemo di sotto però niente di qua non si può passare andiamo di qua e vedete che riusciamo sempre però usando ah qui ce la facciamo arrivare là sotto no c'è una cosa laggiù e forse bisognerà conquistarla in qualche modo quindi siamo tornati qua saltiamo qui e wuff saltiamo anche questo ora saltare due tasto destro questo crepaccio è leggermente più ampio anche qui ci sono le scale per tornare ma dovremmo riuscire a saltare anche questo fatto ok minimappa ora minimappa dice se premiamo F9 ci sono la minimappa quindi vediamo la minimappa in alto a destra dobbiamo poi farlo quando abbiamo chiuso la mappa aiuta a orientarsi nel mondo e poi premiamo di nuovo per vedere che la mappa va su insomma ci diventa più dettagliata ci sono due tipi di mappe tre livelli di ingrandimento dunque abbiamo la modalità superficie dove si vede il terreno dall'alto invece ok la vista superficie è quella che permette di arrivare di trovarlo orientamente poi c'è la modalità radar e così via la modalità radar non la spiega in questo tutorial poi l'orientamento della mappa si può avere il nord sempre su ma se si preme shift F9 lì su sarà dove stiamo guardando vediamo un po' chiudi F9 ecco la mappa la su bella e vedete che se mi giro mi ero aveva detto lui che se facciamo shift F9 però mi sa che non funziona in questa cosa qua facciamo F9 facciamo shift F9 adesso forse il shift F9 prima non funzionava perché c'è il registratore provate voi a vedere se funziona andiamo avanti dunque con l'esplorazione di l'edificio degli oggetti cosa c'è qua vediamo c'è un baule clic destro clic destro suppongo che dobbiamo prendere dei libri e portarceli in mano uno due tre ok ah qui ce lo dice questo è un baule puoi vedere il contenuto nel menu ci sono due inventari sopra quello del baule sotto quello del giocatore si possono scambiare oggetti come nel menu inventari ed è quello che abbiamo fatto ho preso i tre libri e per dire il pezzo di roccia posso metterlo lì qua quindi se io passo con il libro in mano adesso qui ce l'ho e qui se faccio dunque tasto sinistro niente tasto destro il libro non fa niente no in altri casi il libro può fare delle attività eh però scusate visto che i libri sono uguali io posso anche accumulare i libri ecco tre libri così ne ho bene poi cos'altro c'è qua salire scala salire scala questa è una scala questa deve scendere poi scala l'abbiamo già fatta stanza alimenti andiamo nella stanza alimenti beh proviamo ad andare nella stanza alimenti quindi andiamo e facciamo shift scendiamo la scala uh questo sezione alimenti sezione alimenti andiamo c'è un baule cibi alimentazione baule in questo baule ci sono alcuni alimenti ci sono dei blocchi che quando vengono mangiati risanano quando li mangi vengono rimosse dall'inventario per mangiare scegli l'alimento dalla barra e fa i click sinistro con l'alimento in mano non si può colpire per attaccare si deve prendere un altro oggetto mangio alimento tasto sinistro quindi e quella cos'è uh facciamo tasto sinistro uh delle mele quindi se noi prendiamo la mela e ce la mettiamo in mano ok ne ho sei mele quindi prendo la mela in mano andiamo F7 ah non la fa vedere tanto in mano però ce l'ho quindi c'ho la mela in mano quindi a questo punto faccio click ah no devo avere la mela in mano proprio e poi faccio click ah infatti vedi che l'ha consumata 2 1 0 finite manca forse l'animazione del mangiare la metteranno ci sarà già in qualche da qualche parte comunque ho fatto andiamo in nuovo su ok dove eravamo quindi abbiamo imparato a mangiare e qui cosa c'è fabbricazione e attrezzi allora fabbricare il procedimento è di prendere diversi oggetti e combinarli per formarne uno nuovo è un altro importante elemento del gioco occorrono degli oggetti materiali e una cosiddetta griglia di fabbricazione in questo tutorial c'è una griglia 3x3 nell'inventario proviamo la fabbricazione dobbiamo prendere 3 foglie di carta dal baule vicino aprire l'inventario con i inserire i fogli nella griglia a formare una linea verticale 1x3 dovrebbe comparire un libro nella casella di uscire clic per prenderlo quindi metterlo in inventario questo procedimento consuma la carta e quando è libro inventario procede al prossimo cartello tasto destro ah qui abbiamo un sacco di carta quindi la prendiamo ce lo mettiamo qui ok ce l'abbiamo in mano poi i per inventario prendiamo questo e dobbiamo prenderne uno e poi uno due tre no non era lì quindi sarà foglio bianco mettiamo in centro neanche in alto neanche e quindi oh mi ha riportato al da capo portava all'inizio del gioco che roba niente quindi andiamo uff dobbiamo rifare vabbè non capisco ok avevo frainteso devo fare i e metterli in verticale eccolo e così abbiamo il libro vedete che abbiamo costruito un libro ottimo quindi abbiamo fatto questo cartello andiamo avanti cosa ci offre qua ah qui c'è una griglia che ci permette di senza forma per fabbricare il libro è usata una cosiddetta ricetta di fabbricazione per fabbricare è necessario conoscere questa ricetta ricetta usata è una ricetta a forma fissa significa che bisognava mettere i materiali in una certa posizione l'altro tipo di ricetta è quello che non ha forma e qui conta il tipo di materiali ma non la loro posizione quindi poi questo baule c'è del grano dobbiamo fare la farina per farla saranno almeno 4 blocchi di grano in 4 caselle diverse ma le altre caselle devono essere vuote in questa ricetta il grano può essere messo in qualsiasi casella quando si ottiene la farina andiamo al prossimo cartello ok quindi qui ci da una mano ma noi apriamo il grano quindi prendiamolo tac chiudiamo e poi i quindi abbiamo 4 di grano qui ci dice che basta mettere 4 di grano eh quindi facciamo prendiamo no beh prendiamo poi tasto destro per lasciarne 1 2 3 e 4 e abbiamo la farina wow fatto farina quindi possiamo andare al blocco successivo posturare più in fretta avete notato che la fabbricazione consuma un pezzo per ogni casella si può accelerare la fabbricazione cliccando col tasto centrale del mouse nella casella di uscita in questo modo si cerca di fabbricare la stessa cosa 10 volte invece che una proviamo quindi grano restante ma non ne ho di grano restante quindi andiamo a prenderlo perché grano restante quindi grano grano dobbiamo prendere tanti però qua 4 per 10 vi ho detto dobbiamo arrivare a 40 40 40 40 32 36 e magari anche un pochetto di più ok poi facciamo i prendiamo il questo coso qua ce lo prendiamo e qui ne mettiamo 10 10 10 e 10 e qui ha detto che bisogna fare tasto destro non ha funzionato molto forse dovevo ah ne ho fatto 10 effettivamente wow ha funzionato un trucco che non sapevo quante cose che non sapevo qui cosa siamo costruire più in fretta l'abbiamo fatto e qui cosa c'è il gruppo di costruzione cosa ci dice qua un'altra cosa importante da sapere sulla fabbricazione sono i cosiddetti gruppi le ricette non richiedono sempre l'uso dello stesso esatto tipo di materiale oggetto nel tutorial c'è una ricetta speciale per i libri nel baule trovare carta di 4 colori diversi puoi fare un libro con 3 foglie di qualsiasi colore il colore della carta non conta puoi usare carta bianca carta arancia oppure anche mescolare quel che è importante sono le caselle occupate perché funziona perché i 4 tipi di carta sono comunque sempre carta facciamo esperimenti quindi ci sono carta gialla carta così e carta così facciamo i prendiamo questo diciamo uno questo uno questo uno vedete che si produce sempre il libro quindi basta che sia carta va bene capito andiamo avanti vediamo se c'è qualcos'altro attrezzi un attrezzo è un tipo speciale di oggetto gli attrezzi possono servire per diversi usi come rompere blocchi raccogliere liquidi rottare blocchi molti altri il numero di attrezzi possibili ce ne sono tanti però qui parliamo degli attrezzi di scavo gli attrezzi si consumono e si rompono e la saluta c'è un barra colorate possiamo anche ripararli quindi attrezzi suppongo che li troviamo in un baule baule anzi leggiamo prima dunque alcuni sotto game possono avere una ricetta speciale per riparare la riparazione viene sempre nel stesso modo mettere due attrezzi nello stesso tipo nella griglia prendere il risultato che sarà un attrezzo riparato di una certa presentuale alcune attrezze consumate ripariamo sono tutti consumati quindi prendiamo tutte queste cose qua non so se funziona shift freccia shift tasto sinistro ok e poi facciamo i e prendiamo pala di legno questa e questa se ne mettiamo tre no quindi abbiamo una pala un pochino più ok ah questa qui è una pala quasi piena e questa è una pala buona facciamo facciamo la stessa cosa con questa e vabbè abbiamo riparato le pale buono qui cosa c'è poi stanza fusione diamo la stanza fusione fusione scorciatoie per l'inventario se ti stufi di cliccare con piccolo aiuto ti hai premuto maiuscolo mentre fai clic sinistro su una pila per spostarla in un'altra sezione maro shift dice sposta pila di oggetti maiuscolo tasto sinistro vediamo un po' maiuscolo dunque io ho fatto shift eh sì quello che avevamo visto prima ok quindi shift tasto sinistro blocco di oro wow e poi qui cosa ci abbiamo ci abbiamo secondo me ci abbiamo qualcosa anche qua baule ah sì perché è quello di destra quindi prendiamo shift ah shift a sto destra ne prende uno solo interessante quindi prendiamo tutto il prendibile e poi leggiamo eh la fornace le fornace possono essere usate per fondere delle cose quindi si mette nella casella origine sopra e poi nella casella combustibile eh la fiamma impiega un po' quindi si parte eh vabbè leggete voi comunque quello ok quindi c'erano i combustibili e poi i materiali da fondere fondete il blocco d'oro per ottenere un lingotto quindi tasto destra dove è l'oro questo blocco d'oro lo mettiamo lì sotto dobbiamo mettere un combustibile quindi un blocco di carbone via ecco ecco vedete che parte la combustione e ho prodotto un lingotto d'oro che ci mettiamo qua e poi qui c'era qualcos'altro blocco di ferro e se metto un blocco di ferro qua cosa succede? ah quindi del blocco torno ai lingotti e questo cos'è? blocco di ferro blocco di ferro quindi possiamo fare i lingotti partendo dei blocchi buono sta usarendo e quindi direi che ho fatto la fusione cosa abbiamo lì? uscita sì ah è uscita abbiamo visto tutto qua non so fabbricare e fondere viscosità l'abbiamo vista cascata l'abbiamo vista sì la cascata l'abbiamo vista e poi qua cosa c'è? viscosità buo qui l'abbiamo già visto scavare scavare allora scavare direi che qui cosa ci dice? scavare è un metodo per togliere un singolo blocco con un attrezzo è un atto molto importante in mind e lo si usa spesso ok costruito per poter scavare un blocco avere un blocco scavabile puntare il blocco e avere il giusto attrezzo scava col sinistro quando sei pronti tu ne hai premuto il testo sinistro mentre si punta il blocco andiamo un po' se abbiamo gli strumenti e i picconi picconi d'acciaio prendiamo un po' i picconi ok ah e non posso non posso lasciare quindi picconi d'acciaio ce lo prendiamo in mano ok e proviamo a scavare e dov'è che scaviamo? esempio di pietrisco con un piccone quindi proviamo a scavare questo ecco vedete che stiamo scavando e si produce il pietrisco in teoria in teoria mi aspetterei dell'inventaria che arrivi il pietrisco ecco siamo in un 12 di pietrisco ok e poi qui abbiamo tante altre cose da scavare ad esempio il scavo conglomerato e si rompe lasciando qualcosa in base al calcolo probabilistico vediamo un po' vuol dire che non rilascia la stessa roba vediamo cosa si ha portato uh non si sa che cosa forse non è sempre bisogna avere pazienza non mi sembra che che abbia lasciato niente forse dei blocchi di ferro 49 può darsi sto scavando no sempre quanto no vabbè ha deciso di non darmi nulla qua blocchi non scavabili mori nel castello non si possono scavare quindi questi non si possono scavare bene e qua cosa abbiamo vabbè scaviamo anche questi sembra che questi non si possono scavare forse devo usare qualcos'altro ah no devo avere un piccone per scavare giusto questo no ma no in realtà credo che se scavo con questo niente vabbè non scavo pazienza questo pietra questo qua dovrei poter scavare infatti quindi si scava e si ottiene questo è vetro ah forse non mi rida vabbè ehm qui vi ho detto che non si scava e poi cosa abbiamo di qua miniera del tutorial scegliamo scegliamo non vuole niente qua ah qui vuole probabilmente che scavo ok credo che i più interessanti siano questi qui scuri che andrebbero a dare qualcosa probabilmente stanno accumulando ok quindi questa è la miniera dove si può probabilmente scavare in libertà ecco io adesso il tutorial magari facciamo anche basta così nel senso che avete capito più o meno quello che si può fare ehm provate a farvelo voi finitelo mi dicono che ci sono 13 stanze fatemi sapere usare i blocchi ah i blocchi usabili ci sono anche blocchi usabili ah questa era la cosa del era poi il tasto destro cose semplici va bene come dicevo vi lascerei a voi l'incarico di terminare questo tutorial andate o fate di nuovo quello che ho fatto io o fate qualcosa d'altro e questo credo che sia tutto per questa video grazie a tutti